Quali forme hanno le protesi? La protesi mammaria, inventata negli anni 60 del secolo scorso, è nata come protesi rotonda, un sacchettino ripieno di un gel di silicone. Fino alla fine degli anni 90, di fatto le protesi non avevano variato la propria forma, si differenziavano solamente per volume e alle pazienti veniva chiesto quanto grande si volesse il seno dopo l'intervento e quindi si parlava solo di volumi, 100, 200, 300 o di più. Negli ultimi dieci anni sono state introdotte le protesi anatomiche, cioè le cosiddette protesi a goccia, dove invece si potrà decidere di scegliere un impianto specifico per il torace della paziente e per il desiderio finale estetico della paziente, trovando un'altezza, una larghezza e una proiezione differenti. Quindi esistono molti, molti più modelli. Adesso vi farò vedere che tipo di modelli esistono oggi, che differenza c'è tra una protesi rotonda e una protesi anatomica con diverse proiezioni. Ecco qui a voi una protesi rotonda ed una protesi anatomica. Viste dal davanti possono sembrare uguali. Adesso vi spiego le differenze. Guardiamolo di profilo. Questa è la parte, questa è il label, ed è la parte che si appoggia al torace. Questa è la parte che guarda verso il capezzolo. Vedete che è rotonda? In tutte le sue parti gli archi sono identici. Questa è una protesi anatomica, una protesi a goccia, come si dice. Ed ecco qua. Questa è la parte anteriore, questa è la parte posteriore. E vedete che la forma è diversa tra il polo inferiore, qui si dovrebbe posizionare idealmente il capezzolo, nella parte inferiore è più piena, nella parte superiore è più vuota. Quindi questa è una protesi che riempirà più i quadranti inferiori della mammella rispetto ai superiori. Questa è una protesi che riempirà nella stessa maniera i quadranti superiori rispetto agli inferiori. Ora, molte pazienti pensano che la protesi anatomica, che è la protesi più moderna, è la protesi più costosa, ci può essere una differenza quasi del doppio di costo, sia la protesi migliore. Non è sempre vero. Per anni abbiamo usato solo le protesi rotonde e abbiamo avuto degli ottimi risultati. Alcune volte dei risultati anatomici. Cosa vuol dire? Beh, vuol dire che voi capite da solo che una protesi rotonda, con un gel non troppo coeso, cioè che non mantenga la propria forma, quando è posizionata sul torace, può assumere un aspetto anatomico. Quindi, soprattutto se noi pensiamo che c'è un muscolo che la schiaccia, ecco che il muscolo che la schiaccia, vedete che naturalmente il gel tende a scendere verso il basso, il muscolo la schiaccia e di fatto diventa anatomica. Questa è la spiegazione per cui molti, molti risultati, anche degli anni passati, sono estremamente belli, estremamente naturali, con protesi rotonde. È chiaro che l'introduzione della protesi anatomica ha permesso al chirurgo e alla paziente molte più scelte e quindi, arricchendo la scelta dell'impianto, si è aperta la possibilità di avere risultati molto differenti. E qui entriamo in un altro concetto. Quanti modelli esistono dei vari tipi di protesi? Ecco, tre tipi di protesi rotonde. Hanno praticamente tutto lo stesso volume, ma come vedete hanno forme differenti. Dove si differenziano? Nella proiezione. Il volume qui si sviluppa più in larghezza e meno in altezza. Lo stesso volume si sviluppa più qui in altezza che in larghezza. Questa è più stretta di questa. Qual è la differenza? La differenza, dal lato finale, sarà che qui avremo una mammella più proiettata, più piccola e proiettata. Qui avremo una mammella più larga e meno proiettata. Ma le avremo sempre così? No, dipenderà da quale è lo spessore che c'è al di sopra. Se qui c'è tanto spessore, se qui c'è nemmeno, potremmo avere anche lo stesso identico risultato. Quindi, il compromesso, come mi piace spesso dire, tra un materiale sintetico e il materiale biologico e una discussione attenta e approfondita con la mia paziente mi permette di dare il risultato che la paziente desidera utilizzando protesi rotonde più o meno proiettate. Ed ecco qui, invece, tre modelli di protesi anatomiche, cioè di protesi a goccia. Anche qui, il volume non è differente, ma la differenza sta non solo nella proiezione che cambia, questa è meno proiettata, questa è più proiettata. Sta anche nelle dimensioni, altezza, larghezza e proiezione. Quindi, con il modello di protesi a goccia o anatomiche, come si definiscono tecnicamente, possiamo offrire alla paziente un maggior ventaglio di scelte tecniche che possono dare risultati estetici e possiamo addirittura andare a decidere di riempire di più una zona della mammella rispetto a un'altra, a secondo le desiderate della paziente stessa. Di protesi anatomiche ne esiscono veramente tanti e tanti modelli. Ogni azienda, quale più, quale meno, fornisce decine di modelli differenti. La domanda che molte pazienti mi fanno e che io voglio svolgere con voi è ma allora, se le protesi anatomiche sono protesi che permettono più scelte alla paziente, in effetti è vero, di forma finale della mammella, perché non usare sempre la protesi anatomica rispetto alla protesi rotonda. La risposta è di due tipi. Primo, anche con la protesi rotonda si possono ottenere, in base all'esperienza del chirurgo, degli ottimi risultati. Perché? Perché la protesi rotonda in certe condizioni di fatto diventa anatomica, schiacciata sotto il muscolo, se il gel non è troppo consistente diventerà un'anatomica. Secondo, spesso, con la forma della ghiandola sopra la protesi, il risultato finale è assolutamente piacevole. Due vantaggi esistono, in effetti, utilizzando la rotonda. Un vantaggio è secondario, costa meno, certo è importante, ma la spesa si sopporta una volta e poi si dimentica. Il secondo, invece, è l'assenza di uno svantaggio, cioè la rotazione. Se la protesi ruota, non crea differenze. Comunque ruoti, è molto difficile che si giri in questo senso, sopra-sotto, e così non cambia. Invece, nella protesi anatomica, purtroppo, una rotazione, un basculamento, in questo senso, può avvenire. Entro certi ambiti è accettabile, non si nota. Oltre un determinato livello di basculamento, bisognerà reintervenire. E qualche volta, addirittura, non sarà più possibile mettere l'anatomica che continuerà a girare, bisognerà mettere una rotonda. Quindi, le pazienti devono sapere che una complicazione aggiuntiva delle anatomiche è la possibilità di rotazione. Non è frequentissima, ma è presente. È chiaro che l'anatomica, oggi, è la protesi che costa di più, e questo dà l'impressione alla paziente che sia la migliore. Non sempre. Quindi, l'esperienza del chirurgo e la franca discussione che io faccio tutte le volte, in una, due, qualche volta, anche in tre visite preoperatorie, fanno capire alla paziente ciò che vuole. Quindi, protesi anatomica o protesi rotonda, sono due protesi, due mezzi assolutamente idonei entrambi per raggiungere il desiderio finale della paziente, quello di avere un bel seno.